Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiungere lo stretch su Fortnite ovviamente nel capitolo 5 ovviamente grazie anche a questa grafica allungata tu puoi anche ridurre la grafica e aumentare un po' gli fps su Fortnite nel capitolo 5 quindi in questo caso per aggiungere questo stretch su Fortnite ovviamente se andiamo su tasto Windows più R nella schedina esegui puoi direttamente scrivere esegui qua sopra e puoi scrivere percento app data percento e fai ok una volta fatto andiamo su app data local scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella fortnite game save config windows client ed eccolo qua le impostazioni di configurazione del documento clicchiamo nel documento scendiamo fino a giù fino a trovare la risoluzione eccola qua last user confirmed resolution 1920x1080 ed ecco che arriva la parte migliore per il fatto che bisogna cambiare questa risoluzione al gioco quindi tu puoi cambiarla sia qua sopra che sul pannello di Nvidia che sull'impostazione schermo di Windows e su Fortnite ok se tu provi a modificare la risoluzione sul pannello di controllo di Nvidia io per esempio ho fatto altri tutorial recenti su come personalizzare così la risoluzione al gioco ridurre la grafica e migliorare così le prestazioni su Fortnite se io adesso salgo un po' su fino a trovare il personalizzato come puoi vedere ed eccolo qua la risoluzione che uso spesso è il 1750x1080 quindi noi visto che tu non puoi non so se hai Nvidia oppure hai un'altra scheda video però puoi sempre modificare la risoluzione qua sopra quindi resolution size x e y quindi 1750x1080 e lo fai su tutti e tre io ovviamente metto questa risoluzione perché è buona e mi aumenta anche gli fps e metto 750x750 anche qua ovviamente se non vuoi usare questo game user settings poi una volta fatto fai salva e chiudi documento se non vuoi usare questo game user settings puoi usare direttamente il pannello di controllo facilmente e metti 1750x1080 poi puoi creare una risoluzione quella che vuoi quindi in questo caso per creare una risoluzione personalizza ed eccolo qua creare una risoluzione personalizzata e qui potrai mettere il tuo stretch su fortnite nel capitolo 5 quello che vuoi velocità di aggiornamento decidi il tuo di velocità di aggiornamento ovviamente metto 165 hertz profondità colore almeno è fino a 32 e faccio prova e metto così la mia risoluzione quindi quello che mi resta da fare ora è andare su fortnite e provare questa nuova risoluzione poi un'altra foto se andiamo un attimo sulle impostazioni impostazioni ed eccolo qua se adesso vado a mettere finestra schermo intero come puoi vedere il 1750x1080 come è possibile il 1750x1080 perché abbiamo cambiato così la risoluzione sul game user settings e così facendo abbiamo aggiunto lo stretch su fortnite la grafica allungata ovviamente a me è tornato al 1080 perché se adesso ritorno sulle impostazioni finestra schermo intero 1920x1080 io quello che devo fare è modificare le impostazioni anche qua sopra quindi modifica della risoluzione salgo più su fino a trovare 1750x1080 e faccio applica applico così le modifiche vado su fortnite ed eccolo qua finestra schermo intero ed ecco che cambiato cambiata la risoluzione su fortnite ed eccola qua quindi tu puoi mettere qualsiasi tua risoluzione su fortnite giocare molto bene a migliorare così le prestazioni ridurre un po la grafica e aumentare gli fps quindi se questo video ti è stato utilissimo su come applicare lo stretch grafica allungata del capitolo 5 di fortnite iscriviti lascia like per altri problemi commenta sotto al video guardati le altre guide recenti su come risolvere i problemi di crash aumentare gli fps e risolvere vari problemi riguardo alla memoria che è esaurita su fortnite che non te lo fa aprire per colpa della scheda video quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao